Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono con lo steffone nazionale E today siamo tornati su Rocket League, siamo arrivati in Diamante 3 nell'ultimo episodio Vediamo se riusciamo a rancare ancora perché effettivamente la Road to Champion è difficilissima Vabbè questo lo sapevamo, ah siamo contro Den e Wrong Way che sarebbe strada sbagliata Su Rocket League fortunatamente non ci sono le strade ma vinciamo noi lo stesso perché siamo più forti Uh, ha fatto una signora partenza lui Si è la partenza incredibile, però c'è lo steffone che puoi ripartire quindi parte anche lui Allora, incredibile, tocco, va bene ragazzi Ha fatto un ottimo cross, ha fatto un ottimo cross, ci vediamo in un prossimo episodio Mi si è staccata la manopola del joystick, no, no Ecco, 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 adesso c'è, l'ho recuperato da terra E si stacca una manopola del mio joystick, solo che a volte perdo le partite così, mi è successo una volta Ok, ok Non è vero Buon inizio signori, buono Dovevamo andare oggi in silver, sì, sì, oggi in silver dobbiamo andare Ok, aspetta che tiro, una tega Palo Questo qua adesso lo toglierò sicuro, fisso Va bene, aspetta Va benissimo Traversa Ma basta prendere traverse Palo Sempre devi palo Ti giuro che aprivo la porta, me ne andavo e lasciavo la recca andare Quello è fermo È fermo, è fermo, è fermo, sfrutta Sfruttiamo la cosa che è fermo Non la tocco Non me ne frega niente, siamo in classificata Tiro, gol Gol, gol, gol Laga, 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 laga Laga Sei mostro ma era fermo Meno male, meno male Sfruttiamo, non me ne frega, non me ne frega niente la gente ferma in classificata Non me ne frega La sportività non esiste Ogni volta che sono fermo ce ne fosse uno Che mi torna Non me ne frega Io all'inizio sai che lo facevo? Quando vedevo uno fermo anche in classificata stavo fa Ma adesso basta Ok Ah no, sei mostro, sei mostro È tornato, è tornato Ok, sta tiltando Dan, è arrabbiato questo amico C'è per arrabbiato per forza C'è della rabbia nei suoi occhi Hai scritto qualcosa? O nelle sue ruote, no, no, così a caso Ho vampato Dai movimenti L'ho scartato Ho tirato Concludi pure tu Grazie Va bene Questo era proprio il piatto servito Sì, sì, ho fatto Pammo Uno, due, tre, quattro Ciao Uno ha leftato Lo spero È vinta 4 a uno Non mica abbiamo infierito No, no E nella seconda partita di oggi Siamo contro Max Game E attenzione Cactus Per me gli possiamo dare la vittoria Va già bene Preach One E let's go Fratelli Let's go E la palla rimane là È il tocco del Fabi E mi bumpano Occhio che quello di parte Ma accensione Arriva a sorpresa Mamma mia Cactus se l'è preso proprio Secondo me Spinoso come Cactus Guarda lì Lui è rimasto fermo Proprio come Cactus Che col brutto Non è... Vabbè Bello Belli Sei matto Mi dissocio Mi dissocio Era per le views Che ho fatto questa No Mi ha scavalcato Aspetta Meno male che è lenta Eh sì Eh va bene Va bene Ma no scusatemi Quanti chilometri orari 160 Cioè guarda La tiro lì Lui tira una tega Improponibile Che tanto usciva Usciva Come faceva a sapere Che usciva Ho dovuto provare a toglierla Usciva se non la toccava Porca vacca A saperlo È rientrato Va benissimo Sì sì Ok ci ho creduto Fino alla fine Perché ho detto Stapa la prima Poi rimane ferma E la devo buttare dentro Ero proprio convinto Io li faccio proprio così Mamma mia che gran tocco Ma ci sono anche io Che la spazzo E provo a buttarla dentro Se riesco Ok Va bene Questo è quello che fa triggerare Esatto E beh perché Quando lo subisci Ma perché sono stato Previdente Nel riuscire a buttarla avanti Presidente Un'altra e surrendano 100% La tengo lì guarda Attenzione che è partito Anche lui Ok Allora manda lato Però se l'aspettava No Ma che Che cosa è uscito Non avevo il turbo Sì ma guarda il rimbalzo Sì no è un rimbalzo Veramente stranissimo Che sfiga Vabbè dai sti cacchi Porca macca Perché non ci sono i turbo Ora non ci sono Ora per tornare ci metto un po' Devi resistere Tu sto attacco Niente Oh E non c'è Traversa E gol Dai che noia Che noia era Allora Ok No no è sto triggeratissimo Questa la recuperiamo Non mi frega nulla nella vita Ah no è gol Ok Stiamo triggerati Perché è importante Sono due bidoni questi qua Ma infatti Come abbiamo fatto a prendere Gli ultimi tre gol Cioè è la cosa più Insulsa del pianeta Boh Eh Gli ho bampato Pim Questo è il sound effect Di quando tu colpisci la pappa Pim Eh Non ho turbo Non l'ho tolta Non l'ho tolta Beh Hanno fatto cinque gol brutti questi Triggerata male questa Aiuto E allora E allora non si può segnare Non si segna mai Allora non si segna Aspetta Vai Ti prego Ok Eeeh Che sei Come rendiamo in attacco In cinque secondi Così guarda Così Aspetta No No Giampi Giampi Questa partita la devi prendere Non solo tagliarla La devi bruciare Ok Attenzione puoi tirare Puoi tirare Puoi tirare E vabbè Mi sto spaventato anche io Attenzione tiro io E allora Sempre fuori Quelli la porta Eh la porta è più bassa secondo me Non la vediamo perché È un effetto ottico Madonna bellissimo Che sogno Trapalo Sempre palo Sempre i pali Eccolo Palo Se prendevi palo anche qua Basta C'era da uscire dalla porta Basta Abbiamo notato che non tirano mai Quindi questi sono i primi loro due tiri Non facciamoli mai tirare Perché siamo proprio bravi a difendere Ma mai a prendere i pali così Ormai è qualsiasi cosa Rimpalli a caso Bellissimo Io mi sono dato la palla lì Guarda stavo correndo Ha fatto la palla Eh sì perché l'ho buttata Sono riuscita a togliere All'ultimo secondo Comunque Loro soffrono Non sono riusciti ancora ad attaccare In difesa non sono buoni secondo me Quindi No 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 Non dobbiamo farli attaccare E soprattutto col 3-0 Se ne vanno a casa secondo me Surrendano Sì può essere Quindi cerchiamo di farlo FK Quello è rimasto fermo Vabbè Tutti fai Tutti fai Tutti fermi Va bene Vabbè Se non volete più giocare Ditecelo Ma che ne so Ok Benissimo Puoi tirare Benissimo È perfetta Va bene Ah Chiusa Mamma mia Che ansia Porco demonio Veramente Siamo per forza Cioè da 4-0 L'abbiamo riapperta Sì sì Penso se quello non stava fermo Non si piavano neanche il 4-gollo Mannaggia Quindi era ancora più aperta Però non surrendano Non surrendano Se la sentono No hanno surrendato Siamo contro J Pinder L'ultima ragazzi Di oggi Anche se ne abbiamo fatte 3 Però mamma mia Perché hanno leptato gli altri Vediamo di vincere Va bene Andiamo 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 Ok Ok Gol L'ultima la possiamo anche perdere Mi sa Dove due vittorie Però Mamma mia Perché stavo arrivando fortissimo Secondo me è stato un segno del destino Questo palo Vuol dire che la vinceremo Sì sì O che prenderemo tanti pali anche noi O che prenderemo tanti pali Attenzione È andata benissimo È andata benissimo Benissimo È un segno del destino quel palo L'ho detto Senza neanche prevedere Surrendano Dici subito Questo gol Io volevo spazzarla solo qua È andata bene Perché è beccato proprio l'angolino E non è riuscito a togliarla Vado sul rimbalzo Vado io sul rimbalzo Sì Ok Due gol nello stesso angolo Due gol nello stesso angolo Perfetto Allora turbo 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 Però attenzione per i Fabi Che non li punisce abbastanza Però questo è il gol col palo prima Non l'avevo previsto E si torna al palo giusto Non l'avevo previsto al primo palo Io qui Andrei via a posto gol 3,2,1 È proprio l'oro Allora Te lo rubo Bellissimo Ok Vabbè ormai Sempre il solito palo Sempre lì Vorrei cancellare l'unico gol Nell'altro palo Hanno arrivato adesso Mamma mia ragazzi È stata una bella Mi sono divertito Peccato perché Ci sono stati tanti pali In questo video Vediamo di andare in rotto il champion Oggi tra l'intore così Tappac Figo Speriamo niente che vi sia piaciuto il video ragazzi Quanto se vi è piaciuto Lasci un commento E un mi piace Iscrivetevi al canale Anche lo step E noi ci vediamo Come sempre boys A tutto Bello ragazzi E noi ci vediamo